Mercoledì 6 settembre in primo piano nella TGL News uno dei tanti effetti negativi della siccità perché non ci sono solamente gli agricoltori che soffrono per i campi che non possono essere adeguatamente irrigati, purtroppo il basso livello dei fiumi ha provocato tanti disagi ai pesci, il consorzio di bonifica ne ha salvati oltre 5 quintali che sono stati portati in habitat idonei vale a dire dove l'acqua poteva ospitarli, dove non erano i fiumi, i torrenti, i laghi in secca e dunque un altro effetto negativo della siccità che ha sconvolto di fatto il territorio piacentino in questa estate torrida. Parliamo di traffico di viabilità perché sul nostro sito potete trovare le immagini di una vettura che ha percorso un lungo pezzo di tangenziale sud tra lo stadio e la Farnesiana contro senso, quasi un miracolo davvero che non ci siano stati incidenti gravi alla guida una signora che evidentemente aveva sbagliato allo svincolo. Restiamo in tema sempre di viabilità perché i negozianti, i commercianti, anche i residenti di Via Alberoni chiedono all'attuale giunta che faccia marcia indietro rispetto ai suoi predecessori e ripristini il doppio senso di circolazione in Via Alberoni secondo i negozianti gli affari sono calati e ci sono anche problemi relativi alla sicurezza. Chiudiamo con una notizia di calcio perché è ufficiale Matteo Battistini è il nuovo difensore delle pro Piacenza chiamato a sostituire Matteo Abate che si è gravemente infortunato al ginocchio domenica scorsa nella trasferta di Carrara tutto questo e molto altro naturalmente nel TGL delle 19.30 sul nostro sito liberta.it